Fugge dalla polizia tra le cali di sottomarina, facendo perdere le sue tracce prima di essere raggiunto. Il fatto è accaduto ieri in prima serata. L'uomo, Vincenzo Fortuna, conosciuto come Claudio, ha a carico una precedente detenzione per furto, oltre a svariate denunce per condotta violenta nei confronti della fidanzata e della figlia, e anche per spaccio di stupefacenti. Gli agenti di pubblica sicurezza si sono presentati alla sua porta a seguito di una denuncia per il furto di una bicicletta elettrica Dinghi. Alla vista dei militari, Fortuna si è dato alla macchia con un'altra bicicletta, già pronta all'uso, e si è dileguato nel dedalo delle cali della vecchia sottomarina. I militari hanno provato a rincorrerlo, ma non sono riusciti ad acciuffarlo subito. Quando lo hanno rintracciato, lo hanno perquisito a fondo, senza recuperare la bicicletta denunciata. L'uomo al momento non risulta indagato. La bicicletta elettrica sarebbe stata vista dalla proprietaria all'esterno dell'abitazione del pregiudicato, dopo che la stessa si era accorta della sua sparizione, ancorché assicurata con un lucchetto. Allo scopo di riottenerla si era fatta aiutare dal suo compagno e dal suocero, i quali si sono recati nel luogo dove abita Fortuna, in via San Marco, ma nel lasso di tempo intercorso il mezzo non c'era già più. Dall'interno dell'abitazione i due avrebbero ascoltato Fortuna a dire a un'altra persona, non possiamo permetterci di andare in prigione, al che la donna asporto denuncia al commissariato. I controlli hanno appurato la presenza di molte biciclette arrugginite di fronte all'abitazione di Fortuna, che asserisce a essere di sua proprietà e in disuso. Giorni di festa, ma non per tutti. Gli abbonati annuali al parcheggio a pagamento in campo cannoni e sottomarina, per esempio, che come ormai di consueto si vedono espropriare del loro diritto da domani all'8 gennaio, per via del posizionamento delle giostre natalizie. Già da ieri le attrazioni sono in fase di montaggio e l'area è stata transennata. I residenti sono quindi impossibilitati a parcheggiare per 20 giorni in occasione di samarattino e per altri 20 giorni tra Natale e l'Epifania, nonostante appunto la sottoscrizione di una tessera. La richiesta che formulano al Comune il abbraccio operativo SST è che vengano scontati dall'abbonamento annualo i giorni in cui il parcheggio cannoni è transennato, o in alternativa che i suoi abbonati venga concesso di parcheggiare in piazza Europa o in lungomare, esponendo in tagliando. La situazione si era già presentata nello scorso anno, causando notevoli disagi e rimostranze. Il gestore di un bar di sottomarina è stato scoperto dall'ENI o dalla società che erogava l'energia elettrica a taroccare i rilevamenti del consumo di gas dell'esercizio manomettendo il contatore, attraverso l'influsso di un magnete, che provocava rallentamenti nello scatto delle cifre, a fronte di una erogazione normale del servizio. Gli ispettori dell'ENTE hanno sanzionato il locale con molte migliaia di euro di multa. A conto sorprende, non è l'unico caso in cui le bollette vengono alleggerite con sistema della calamita, ma con i controlli in circolazione fare il furbo costa sempre più caro. Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di ieri, il Vice Sindaco Marco Veronese ha risposto alla consigliera Romina Tiozzo, che il Comune non ha un titolo per fare ricorso al TAR a verso la richiesta di occupazione anticipata da parte di costa e bioenergie riguardo il nuovo varco al deposito GPL in Val d'Ario, ma può sollecitare la capitale di Porto, come ha fatto altre volte. In sede di conferenza dei servizi, ha detto Veronese, è stata discusa una planimetria che comprende anche il varco in questione, quindi secondo il Vice Sindaco realizzare opere su quell'area per costa e bioenergie è lecito. Alla Polizia Locale, che ha chiesto informazioni sui lavori, i tecnici della Socco Cassano ha esibito il decreto ministeriale autorizzativo. Veronese prosegue nel raccontare la cronistoria del varco. Nel 2008 il Comune ha ricevuto in concessione dalla Capitaneria di Porto il tratto di via maestri del lavoro. La concessione scadeva nel 2011, il Comune ha richiesto un nuovo rinnovo con scadenza 2014. Nel 2015 Aspo chiede alla Capitaneria una concessione della stessa area con scadenza 2018. Il 18 novembre scorso Costa Bioenergie formula una manifestazione di interesse. L'autorità portuale la rende pubblica, ma ad oggi non ha rilasciato alcun titolo a Costa. Il Comune invia le proprie osservazioni tramite l'ufficio urbanistico. Il Vice Sindaco Veronese esclude la possibilità di adivenire un ricorso. Non possiamo farlo contro una manifestazione di interesse. Quando si arriverà un'istruttoria o venisse rilasciata una concessione potremmo impugnarla. Alla Parafarmazia Corrieri di Viale Venezia 2 a Sottomarina potete trovare i profumi goccia d'oro, profumi made in Italy, profumi alla spina a un prezzo assolutamente conveniente. Forse uno degli appuntamenti più attesi dal pubblico che ho giotto di Acque Altre, quello che stasera dalle 21 porterà sul palco del Teatro Don Bosco il noto attore poliesano Natalino Balasso, assieme a Marta Dallavia, nello spettacolo Delusionist, dove la comicità irriverente nei confronti di chiunque e il linguaggio rivoluzionario si incontrano dando vita a un presente alternativo nel quale esistere è pura performance e ci si salva grazie a una pillola che permette di rimanere accesi tutto il giorno e la notte. Pochi biglietti sono ancora disponibili al Teatro Salesiano un'ora prima dell'evento. Ciao amici, buongiorno e bentrovati. Dunque un buon giovedì a tutti e buon mercato prima di tutto. Dunque è una situazione del tempo come vi ho già detto stabile che andrà avanti almeno sino a Natale con una totale assenza di precipitazioni a tutte le quote. Quindi però la situazione è anche questa che naturalmente questo anticiclone seppur indebolito continuerà a farci fare strada almeno fino dopo Natale come vi ho detto, però ovviamente verrà sostituito anche da masse di aria un pochino più calde, un pochino più umide e tiepide e quindi già alle alte quote le temperature cominceranno a salire. Ovviamente questa salita di temperature le alte quote favorirà un ristagno nei bassi strati di umidità che sarà responsabile ovviamente nei giorni a seguire anche di un ulteriore aumento dell'umidità e quindi anche delle formazioni nebbiose tra le coste e le pianure interne. Formazioni nebbiose che durante la sera, quindi l'ore più fredde e la mattina, potranno recare anche estese gelate ovviamente in tutta la provincia di Venezia, un pochino meno sulle coste. Questa situazione come vi ho detto sicuramente andrà avanti oltre a Natale, quindi anche dopo Santo Stefano, quando sembrano aprirsi degli spirali atlantisi con un cambiamento di scenario, ma naturalmente siamo ancora troppo in là. Quindi probabilmente da qui a Natale la situazione non cambierà molto, giornate tipicamente comunque invernali nella prima mattinata con temperature che via via torneranno ad essere un pochino più umidi durante il giorno e quindi favoriranno il ristagno che ho detto prima degli inquinanti anche nei bassi strati e quindi anche dell'umidità. Non si profiliano cambiamenti veramente eccezionali come si era visto all'inizio della settimana dovuto appunto a questa discesa di aria artica dei comparti nord europei che doveva in qualche modo colpire anche le nostre zone, ma come si è visto è stata già allontanata verso e oltre i Balcani dando luogo lì in quelle zone veramente nelle crude scienze dei fenomeni e anche del freddo. Non si toccherà quindi minimamente. Per il resto non mi resta che augurarvi una buona giornata e di attendere poi i giorni per domani. Ciao a tutti!